Un rientro in punta di piedi con un progetto dedicato alla musica italiana, agli standard del nostro territorio, insieme a Rubemella via alla batteria, a Rino dei Patre alla chitarra, a Fabio Giacchino al pianoforte della Sire, in più l'orchestra filarmonica di Benevento, arrangiate diretta dal maestro Giovanni Francesca. Buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bruno Lausi, Celentano di Andrì Gino Paoli, Modugno, Mogolle, Ghiaria, è un brano italiano composto da Chad Becker che però per l'occasione avrei interpretato non alla tromba ma al trombone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.